Il Tar Campania nel 2023 ha ridotto le pendenze dei ricorsi nonostante un organico di magistrati in servizio notevolmente inferiore a quello di diritto e quanto contenuto nella relazione del presidente del Tribunale Amministrativo Regionale Vincenzo Salamone in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il Tar Campania, ha detto Salomone, costituisce per dimensioni e contenzioso il secondo Tribunale Amministrativo d'Italia. Ascoltiamo. I sospici sono quelli di lavorare come abbiamo lavorato negli scorsi anni, con lo stesso impegno, soprattutto cercando di garantire un servizio e giustizia. Giustizia è sempre più un servizio, non è solo una funzione, una delle tre funzioni tipiche dello Stato moderno. È anche un servizio ai cittadini e dare soprattutto una risposta in tempi celeri. Per quanto riguarda l'andamento delle attività del Tar Campano, esso è in linea con le norme in materia di accelerazione e definizione dei giudizi in tempi certi. I ricorsi depositati nel 2023 sono stati 6.150 a fronte dei 6.214 dell'anno precedente, per un dato complessivo pari a 64 ricorsi in meno, un decremento dell'1,03%. Sebbene dunque si sia registrata una generale lieve flessione, si registra un incremento dei ricorsi in materia di informativa antimafia, istruzione e silenzio della pubblica amministrazione, che crescono rispettivamente del 120%, 47% e 99%. Presenti all'inaugurazione dell'anno giudiziario, tra gli altri, il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca e il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi. Ascoltiamo. La democrazia è in discussione quando si chiudono i cancelli dei ministeri di fronte a centinaia di sindaci. La democrazia è in discussione quando ci si rifiuta di dialogare. La democrazia è in discussione quando ti mettono in discussione il pane, il lavoro. Cosa si fa quando si arriva a questo punto limite? La situazione diventa delicata. Tar deve ovviamente fare una valutazione sulla legittimità degli atti e regolare quelli che sono i contenziosi. Poi il potere sostitutivo va adottato laddove ci siano delle situazioni veramente critiche. Il resto è compito della politica e del rapporto istituzionale che deve rimanere saldo. È fondamentale che ci sia un confronto continuo tra le istituzioni per evitare che poi i problemi vengano risolti nelle aule dei tribunali.